Cosa è successo? Siamo passati all'euro. Cioè lo Stato, passando all'euro, ha perduto la carta, ha perduto il suo cartalismo, ha perduto la possibilità di emettere questa carta, questa moneta, di inventarla dal nulla e di spenderla in modo keynesiano per arricchire il Paese. Ok? Allora, prima di passare a questo, vado alla lavagna un attimo, perché dobbiamo capirlo bene, questo concetto, e questo è Wynne Godley, questo concetto di che cosa significa per un Paese avere una moneta, cosa significa avere un bilancio dello Stato, cosa significa avere un bilancio in passivo, un bilancio in pareggio, un bilancio inattivo. Il bilancio in passivo è il momento in cui lo Stato spende di più di quello che vi tassa, quindi usa la carta, è cartalista, capendo, comprendendo che questa sua emissione non è un debito per nessuno, tanto meno per lui, tanto meno per i nostri nipoti. Avere un bilancio in pareggio vuol dire che lo Stato decide di spendere e di ritirare dal pubblico tutto quello che ha speso, cioè dare 100 e togliere 100. E il bilancio inattivo è addirittura il contrario, cioè lo Stato spende 100 per i cittadini e di tassa 120. Così questo signore che si chiama Stato accumula un tesoretto che non si capisce a cosa serva, non si capisce a chi serva. Vabbè. Allora, questa è l'Italia. Questo è il nostro paese. E come dico sempre, ogni paese, ogni nazione ha due tipi di ricchezze. Una ricchezza finanziaria rappresentata dal denaro e da tutto quello che è denaro. È denaro anche un titolo di Stato, è denaro anche un'obbligazione, è denaro anche un titolo di una banca, eccetera. E ricchezza reale. Ricchezza reale sono le auto, le case, i campi, le industrie, tutto quello che è il cibo, la carne, tutto quello che è ricchezza reale. Allora, in questo paese ci sono due entità e solo due. Il governo e il non governo. Questo è G e questo è non G. Semplice. Che cos'è il governo? Il governo è tutto l'apparato pubblico, tutta l'amministrazione dello Stato, questo è il governo. Tutto ciò che non è amministrazione dello Stato e apparato pubblico, cioè tutta la cittadinanza, le imprese, i bar, i negozi, i mestieri, i campi, i contadini, tutto quello che non è governo è settore non governativo. Ciascuno di questi due settori, se ci pensate bene, ha esattamente la stessa divisione di ricchezza. Tutti noi abbiamo soldi e cose. La maglietta, la casa, il trattore, il computer, o appunto i risparmi in banca, o i debiti in banca, perché sono soldi anche quelli. Allora, lo Stato ha denaro e cose reali, noi abbiamo denaro e cose reali. La domanda che ci dobbiamo fare è, dimenticandoci per un attimo lo Stato, qua dentro, all'interno di questo settore che siamo noi, chi crea denaro? Se noi ci mettiamo tutti quanti, facciamo per comodità di ragionamento, immaginiamo che noi siamo il settore non governativo, cioè siamo tutta l'Italia, tutta l'Italia dei mestieri, delle aziende, delle professioni, dei cittadini. Siamo tutti chiusi qua dentro. Allora, qui dentro, chi crea denaro? Chi è che è in grado di creare denaro? Perché vi faccio questa domanda? Perché dobbiamo capire come facciamo tutti noi ad acquisire più ricchezza finanziaria, per avere un migliore reddito, per avere un migliore standard di vita, per avere più tutele, per avere più servizi, per avere tutto di più. Abbiamo bisogno di creare più finanza per questo. Chi di noi crea denaro? Qualcuno di noi ha la stampatrice di bigliettoni a casa, nessuno ce l'ha, se non a parte qualche falsario. Nessuno di noi ha la zecca, nessuno di noi possiede una banca. Noi abbiamo delle attività, quando un'attività commerciale fa soldi, cioè ha successo, è logico che quei soldi derivano da qualcun altro. Allora, se questa signora è un'imprenditrice e ha lanciato un prodotto che sta vendendo da pazzi, è perché qualcuno qua dentro glielo sta comprando. Quindi lei ha accumulato del denaro, ma qualcuno l'ha perso qui, gli è uscito dalle tasche, d'accordo? Cioè è logico immaginare e pensare, ed è assolutamente vero dal punto di vista economico, che tutto il denaro che circola qua dentro è semplicemente un giro di vasi comunicanti. Si alza da una parte e si abbassa da un'altra. Se qualcuno guadagna, qualcuno spende. Se qualcuno risparmia, qualcuno si indebita. Non c'è possibilità di far sì che tutti noi qua dentro allo stesso tempo cresciamo di denaro. E da dove viene? Qualcuno, se qui cresce, la deve calare. Se la cresce, qui deve calare. Non c'è pezza. D'accordo? Le banche qua dentro, e stanno qua dentro le banche, creano denaro. Questo è vero. Chi lavora con le banche sa che le banche creano un denaro, però le banche creano anche indebitamento. Cioè per ogni singolo centesimo di denaro creato dalle banche esiste un indebitamento. Di nuovo si è alzata una colonnina e si è abbassata una colonnina da qualche parte. Neanche le banche possono creare del denaro al netto. Cioè un denaro che entri in questa stanza, che benefici tutti, senza che nessuno se ne sia privato, o senza che nessuno si sia indebitato. Qua dentro non si crea denaro. È impossibile. D'accordo? Allora, come si fa ad avere più denaro qua dentro? È giocoforza, immaginale, che è l'unica possibilità che un contenitore esterno da qua crei un valore finanziario e lo immetta qua dentro. D'accordo? E questo è quello che fa ogni singolo Stato al mondo, attraverso quella che si chiama la spesa pubblica. Lo Stato, proprietario di una moneta, il dollaro, la sterlina, la lira, il marco, eccetera, crea questa moneta al lato della spesa, compra un ospedale qua dentro, paga gli operai che l'hanno fatto, l'azienda che l'ha fatto, paga l'indotto dei prodotti che sono stati venduti per fare con l'ospedale, costruisce una strada, paga stipendi a insegnanti, a consulenti, alla polizia, ai pompieri, eccetera. Ok? Quindi crea una spesa che entra qua dentro. Qui nessuno si è privato di un singolo centesimo nel momento in cui lo Stato ha deciso di costruire con l'ospedale. D'accordo? Quindi è il denaro che è entrato. Poi cosa fa lo Stato però? Fa anche un'altra cosa che è un po' meno carina. Tassa. Ok? E quindi prende il denaro che solo lo Stato può aver creato, perché nessuno di noi può creare le lire, i marchi, i dollari, gli yen, eccetera, prende il denaro che lo Stato ha creato e che ha messo qua dentro e lo tira fuori da qua. Se ne riappropria. Attenzione al gioco. Allora è ovvio che se lo Stato spende 150 e tassa 100, ci lascia qua dentro al netto 50. Ok? Questo vuol dire che tutta questa cittadinanza italiana si è arricchita di 50, senza essersi privata di un singolo centesimo. Ha messo 150, ha tolto 100, ci rimangono 50 netti. Perfetto. Se lo Stato decide di mettere 100 e di togliere 100, qua dentro ci rimane zero. Siamo esattamente da capo. Non abbiamo un singolo centesimo di ricchezza finanziaria aggiunta. Non possiamo risparmiare niente, non possiamo reinvestire niente. Siamo nella stessa condizione di prima. Se poi lo Stato decide, sciaguratamente dal mio punto di vista, di spendere 100 e tassare 150, qua dentro andiamo a meno 50. Un anno meno 50, un anno meno 30, un anno meno 45, un anno meno 20, dove finiamo? Finiamo nello Zimbabwe. Allora, lo Stato che spende di più di quello che tassa e lascia 50 qua dentro per tutti noi, è in deficit di bilancio. Lo Stato che mette 100 e toglie 100 e ci lascia secco, fa il pareggio di bilancio. Lo Stato che spende 100 e toglie 150, fa il surplus di bilancio. Oggi tutti i media vi raccontano che la virtù dell'Italia sarebbe il pareggio di bilancio, cioè rimanere a secco, o il surplus di bilancio, cioè impoverirci anno dopo anno di 30, 40, 50, 60, 30, 20, 50, eccetera. Con quale insensata idiozia, dal mio punto di vista anche criminale, perché questa gente sa benissimo, conosce benissimo l'economia, sa di cosa stanno parlando, con quale insensata idiozia si va convincendo i cittadini che fare un pareggio di bilancio fa il bene dell'Italia. Come fa a fare il bene dei cittadini un pareggio di bilancio? Lasciandoci zero nelle tasche. È impossibile, è matematica. L'abbiamo messo in Costituzione. Oggi nella Costituzione italiana c'è scritto che l'Italia deve fare questa cosa, mettere 100 e togliere 100, mettere 150 e togliere 150, lasciarci sempre a zero. Questo è un impoverimento automatico della società, cioè sono gli stipendi stagnanti, i redditi stagnanti, i servizi stagnanti, le infrastrutture stagnanti, in un arco di tempo di 10, 15, 20, 50, 60 anni. È impoverimento automatico. C'è un motivo per cui fanno questo? Sanno benissimo quello che stanno facendo. Vogliono riprendersi la ricchezza. Non lasciarla a noi, ma questo è un altro discorso. Stiamo sulla parte tecnica. Attenzione, detto questo, chiarito un attimo il discorso dei bilanci settoriali, i bilanci dei settori. Settore governo, settore non governo. Chiarito un attimo questo, andiamo a vedere una terza cosa. Qua c'è un altro settore. che lo chiamiamo il settore estero. Il settore estero è un settore esterno a noi che siamo in questa stanza. Anche loro possono spendere da noi, con le frecce così, esattamente più di quello che ci tolgono. E' chiaro che se comprano da noi più prodotti di quelli che noi compriamo da loro, è ovvio che noi gli diamo 100 soldi, loro ce ne danno 150, noi incassiamo 50. Quindi è possibile che un paese possa, diciamo, bilanciare un governo che non fa il suo dovere, buttandosi disperatamente su questi signori qua. Però capite benissimo che un sistema di questo genere è totalmente inaffidabile. Perché il settore estero, prima di tutto, può decidere di andare a spendere da qualche altra parte. Le dinamiche della globalizzazione fanno sì che adesso paesi emergenti che tutti conosciamo riescono a produrre qualità e tecnologia ormai quasi pare alla nostra, se non addirittura pare alla nostra, a prezzi che sono 10-15 volte inferiori. Si apre una guerra, una concorrenza verso il basso che è spaventosa. L'azienda italiana a questo punto deve disperatamente tentare di vendere all'estero, perché deve giocare qua invece che avere i soldi da qui. Quindi deve mettersi in competizione con l'azienda cinese, con l'azienda indiana, brasiliana, portoghese, eccetera, tedesca, che varano i tedeschi fra l'altro, quindi hanno anche i giochi truccati. Ma voglio dire, allora cosa deve fare un'azienda italiana? Non potendo più avere niente che gli entra da qua, deve tagliare da qualche parte. dove va a tagliare? Nello stipendio dei dipendenti, perché deve vendere le scarpe, deve vendere l'orologio, deve vendere il carburatore del trattore a un prezzo inferiore al concorrente cinese, indiano e quell'altro. E allora si parte in una gara a ribasso micidiale, dove nella realtà per riuscire ad avere più investimenti da qua di quelli che noi portiamo all'estero, finiamo per distruggere i redditi italiani. Oltre al fatto che ho citato all'inizio, per cui a un certo punto questi possono decidere che in Italia non comprano più. Per cui io sinceramente devo dire una cosa. Se noi pensiamo, come pensano certi economisti, che secondo me, nonostante studiano tanti anni, non sanno di cosa stanno parlando, Se noi pensiamo che un paese si possa reggere su questa gara, pensiamo veramente alla rovina dell'Italia. Noi dobbiamo avere un governo, che è l'emissore della moneta, che ne può emettere tanta quanta gli ne pare, senza reali problemi, che faccia il gioco virtuoso, spenda a deficit, specialmente nei momenti di bisogno, come sono questi, questi anni e di adesso. Noi abbiamo l'economia italiana che si sta avvitando disperatamente, e c'è bisogno di un intervento del sovrano, di chi può emettere la moneta, per iniettare beni finanziari qua dentro, vuol dire creare piena occupazione, impiegare tutti i disoccupati che sono stati resi disoccupati dalla crisi economica, impiegare i sottooccupati che sono laureati e lavorano per 800 euro, per 600 euro, creare le infrastrutture per rilanciare le aziende italiane, come hanno fatto i tedeschi, mentre dicevano a noi di non farlo, e non potevamo farlo perché era spesa pubblica, loro lo facevano barando, cioè fare tutta quell'opera di iniezioni di beni finanziari qua dentro, che rilancia il Paese. Questo noi dobbiamo fare, contare su questa gente, ma attenzione. Grazie. 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 Grazie.